Ho fatto social trading per un mese e questo è quello che è successo. Prima di questa esperienza non avevo mai fatto social trading, quindi è la prima volta che l'ho provato e ovviamente ho utilizzato la piattaforma leader per il social trading che è eToro, piattaforma anche che utilizzo tranquillamente per trading, investimenti e, come magari sapete, i dividendi. Quindi il link in descrizione se volete provarla, ovviamente è gratuita. Su eToro puoi scegliere di copiare un milione di persone, veramente ci sono un sacco di persone che hanno le loro biografie, i loro dati a vostra disposizione e potete scegliere in base anche al guadagno mensile, annuale, quindi in percentuale, qual è la persona più adatta a voi, in base anche al profilo di rischio perché ci sono persone che magari investono solo in cripto, quindi hanno un rischio anche a 9 su 10 ed è una follia, altre invece che hanno un profilo più basso, quindi con un rischio tra i 3 e i 4 punti. Io infatti ho scelto una donna chiamata Arash007 che ha la stellina rossa, poi vi vado a spiegare bene che cos'è, significa che è grado champion e quindi gestisce in minimo 150.000 dollari. Ogni persona che fa social trading può scegliere quanto investire di soglia minima, quindi lei per soglia minima aveva 200 dollari ed io ho investito la minima soglia, 200 dollari. Poi ci sono anche quelli che dicono magari no, per investire con me ti consiglio di mettere 50 euro, 1000 euro, in base anche al patrimonio che vanno a gestire. Io dalla mia esperienza in social trading sono rimasto soddisfatto o deluso? Sono rimasto un po' deluso, più che altro per i guadagni. Le percentuali ottime, sia sue che magari di altre persone in social trading, perché veramente dalle percentuali abbastanza elevate, solo che con il mio piccolo capitale che avevo investito su di lei, quindi solo 200 dollari, beh ho guadagnato neanche 2 dollari. Quindi se fosse andata meglio avrei sicuramente investito ancora di più per altri mesi, ma non è andata così perché il ritorno che ho avuto, almeno in questo periodo di crisi dove i guadagni erano molto più elevati, investendo semplicemente su un'azione, un'azienda classica, ho deciso di togliere i miei 200 euro che avevo messo su di lei e metterli su altre cose più profittevoli. Il programma di social trading attualmente si divide in 4 differenti categorie. Si parte dal cadetto, quindi con la stella azzurra, si va alla stella nascente, quindi colore giallo-arancione, campione, stella rossa e elite, stella verde. Ognuno di questi livelli, in ordine di importanza, ha dei benefici, dei guadagni anche mensili e dei privilegi mica male. E per essere in questi livelli devi avere ovviamente dei requisiti. Ogni stella, ogni grado ti impone dei requisiti. E il cadetto è a livello base, quindi non ha vantaggi particolari. Appare solo nel marketing di Toro dove andate a cercare le persone, ma non ha nessun stipendio mensile. Passando invece a stella nascente, quindi il grado successivo, devi ovviamente come requisito stare due mesi dentro questo livello per garantire che vali quello che sei, quindi sei una stella nascente. E iToro ti pagherà ogni mese uno stipendio di 500 dollari. Quindi semplicemente, oltre alle tue operazioni che ti possono andare bene o male, le persone ti seguono, già iToro ti paga uno stipendio. Per il grado successivo, champion, 1000 euro, 1000 dollari di stipendio dai Toro. Ed è una cosa fantastica perché diventa quasi come un lavoro il social trading. Hai uno stipendio fisso, che sono soldi, che puoi investire e aggiungere al tuo portafoglio. Mentre per quanto riguarda Elite, che è il grado massimo sopra il champion, hai lo stesso stipendio mensile, 1000 dollari, però hai il 2% di AUM annuo. AUM, se non sbaglio, dovrebbe essere il portafoglio, i soldi che hai in gestione, quindi tutti i soldi che gestisci dalle persone che investono su di te. E per essere in Elite, beh, devi avere minimo 500.000 dollari in gestione. Quindi fate un paio di calcoli, 2% di almeno 500.000 dollari, beh, non sono briciole. Quindi solo base, minimo 10.000 euro in più all'anno, che non è male. Un'altra cosa fantastica è che più si sale di grado, più avremo la riduzione dei prelievi. Quindi per prelevare i soldi, di solito suiToro si paga una commissione, dovrebbe essere di 5 dollari, ma più vai avanti di grado non paghi le commissioni. Quindi prelevi i soldi tranquillamente, gratuitamente, cosa stupenda. E un'altra cosa che avevo letto, anche se nel piano attuale non lo leggo, quindi magari hanno cambiato nel 2020, non lo so, però più si sale di grado, lo spread si abbassa. Un lato negativo di iToro è che lo spread è abbastanza alto, soprattutto in crypto, o magari in alcune azioni, dipende. Comunque lo spread suiToro non è il massimo. Però salendo di grado, lo spread diminuisce in percentuale fino ad essere cancellato. È il paradiso, è una cosa stupenda avere lo spread a zero. Andiamo un po' a vedere quali sono le posizioni che la donna che ho copiato a Rush 007 ha aperto. Un consiglio che da lei e do anch'io, lei lo dava principalmente per se stessa, ma io lo do in generale, per chi vuole fare social trading e copiare persone. Quando investite i vostri soldi, vi esce la spunta su accetta o non accetta, vuoi aprire le posizioni che sono già aperte? Non fatelo, perché sicuramente quelle posizioni sono state aperte in precedenza, magari stanno andando male, stanno andando bene, voi le aprite a metà, non ha senso. Quindi non aprite quelle che sono già aperte. Tranquillamente una persona che copiate o seguite in pochi giorni, in poche ore, magari aprirà altre posizioni. Quindi tranquilli, non copiate le posizioni che sono già aperte. La primissima operazione che ha fatto a Rush da quando ha investito su di lei è stata nel Forex, quindi il cambio neozelandese con Dollaro. Ha preso un take profit e per prendere un take profit e andare in positivo significa che stava andando abbastanza male. Quindi è ritornato in pari, ha chiuso a zero, zero di profitto e è stata a posto così. Poi tutto il resto dovrebbe essere sulle azioni, quindi Newer con 3,52% sarebbe ottimo, solo che con il piccolo capitale che avevo investito, beh i guadagni sono miseri, visto che ti apre delle posizioni in percentuale i soldi che hai investito. Quindi io è come se avessi investito 2 dollari e 27 centesimi su questa azione. L'azienda non ha senso, infatti un profitto di 0,8 centesimi di dollaro. Poi abbiamo Twitter con più 10,85%, investendo una bella cifra di soldi, qui si possono fare dei profitti veramente interessanti. Quindi facendo social trading con dei capitali interessanti, si possono fare guadagni senza fare nulla praticamente. Io se avessi a disposizione 10.000 euro da investire, beh li potrei mettere in social trading su persona X, Y, Z e avrei i miei guadagni senza far nulla, perché comunque le percentuali se le fanno. E molte persone che sono appassionate, sanno quando entrare, sanno studiare bene i mercati, beh vale la pena copiarli. Non sto a dire tutte le azioni, comunque ve le faccio vedere qui a schermo. Poi abbiamo Disney, ancora Newer, molte altre. Anche alcune molto importanti come Microsoft, Netflix, Google e un'altra azienda che aveva in portafoglio, ma l'aveva aperta prima che la copiassi, era Tesla. Tesla era crescita di un sacco, come magari avete visto, è arrivata a 1000 dollari per azione, una cifra folle, visto che già Elon Musk, quando è sui circa 800 dollari per azione, aveva detto che era una cifra fin troppo alta per la sua azienda. E invece Tesla volerà chissà per quanto tempo. C'è anche da dire però che questa trader non va sempre in profitto, perché ovviamente avete visto, Disney ha meno 4, quasi 5%, e è una perdita importante. Lei da quello che ho visto si mette i suoi stop loss e take profit, come è giusto che sia. A volte mette solamente take profit senza stop loss, quando magari sono aziende veramente solide di cui si fida, e che se scendono anche del 20% non le importa. Perché se ad esempio compriamo un Netflix, un'azienda enorme, o Apple, o Microsoft, Google, non ci andiamo a mettere un stop loss perché magari scende di quel poco, perché comunque è un'azienda veramente stabile, solida, di cui ci fidiamo. Quindi la persona che ho deciso di copiare aveva una strategia, me la sono letta benissimo prima di investire su di lei, è una strategia a medio-lungo termine, su aziende solide, di cui lei ovviamente si fida, ha un profilo di rischio a 4, che è veramente basso, e ho voluto provare social trading, solo che con i guadagni che ho riscontrato mi sono un po' quasi pentito, perché per questi pochi soldi, ovviamente anche perché lei ha in gestione minimo 150.000 dollari, quindi i miei 200 sono briciole, non valgono niente a confronto dei 150.000, magari se avessi investito su un cadetto, i miei spiccioli potevano valere qualcosa di più. Lei comunque consiglia di tenere di solito i soldi investiti con lei tra 1 e 3 mesi, minimo, e per avere il massimo potenziale del risultato almeno un anno. Ogni social trader ha una propria strategia che va in base al tempo, va in base al denaro. Sicuramente è una cosa veramente interessante, ha dei pro e dei contro però, perché io copiatore, esempio, posso essere la persona più ignorante del mondo e rimanerlo. Ho i miei guadagni, ma rimango ignorante, quindi posso pensare che non serve a nulla studiare i grafici, studiare l'analisi fondamentale, ma in realtà è una cosa utile, anche perché si capisce su che cosa si va a investire. Ok, noi non investiamo in modo attivo perché lo fa un'altra persona al posto nostro, però è comunque interessante di solito scoprire cosa ci sta dietro a un'azienda, a un'azione. Non sto ovviamente consigliando di seguire questa persona perché io l'ho fatto come test per un mese e ognuno è libero di seguire chi vuole. Potete seguire anche me, se non sbaglio, o altre persone, ovviamente con i propri rischi, perché non è che vuol dire che va sempre in profitto. C'è anche lei, anche lei ci sono stati i mesi della crisi che è andata abbastanza in negativo e una persona che la copia può avere i suoi stop loss, quindi se perde più di tot soldi miei, vado in chiusura e dico basta, non ti seguo più. Sono pro o contro al social trading? Direi pro, perché comunque è una cosa interessante, si può fare bene con capitali abbastanza alti, con questi capitali bassi, secondo me non ha senso, non ha molto senso, però ho visto uno screen di un ragazzo che aveva investito 10.000 dollari su una persona e aveva fatto un ritorno di 1.000 dollari, che è una cosa fantastica, se non sbaglio era il 10%, quindi. Fammi sapere nei commenti cosa pensi del social trading e se già utilizzi Toro o se magari vorresti provarlo, è gratuito? Te lo lascio ancora in descrizione se vuoi investire. C'è anche il conto demo che ti dà 100.000 dollari di prova per investire e fare i tuoi test, puoi farlo anche col social trading nel conto demo. Comunque fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo video, del social trading di Toro, eccetera eccetera. lascia un mi piace se il video ti è piaciuto perché mi supporteresti moltissimo, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.